Amici, bentornati nel vostro salottino di chiacchiere e caffè, dove mi hanno raggiunto altri due ospiti. Ve li presento subito. Qui alla mia destra Stefano Spadoni, direttore artistico Schermi d'Europa, una rassegna importante alla prima edizione che è la protagonista dell'intervista. E qui con noi abbiamo sempre l'estra Toson Bragion, imprenditrice titolare del Rally Lux Hotel Miramonti di Montegrotto Terme a Padova. Benvenuti, un benvenuto ai miei ospiti. Allora, come ho anticipato poco fa, oggi parliamo con voi della prima edizione di quella che può essere davvero una manifestazione importantissima, Schermi d'Europa, cinema e autori raccontano le regioni. Quindi si parla di cinema, si parla di territorio, dal territorio una provocazione, comunque dicevamo a politici, ad addetti ai lavori, per dare ancora più vivacità e dinamismo a quello che è il mondo del cinema. Elettra. Cominciamo allora con lei o con te come preferiti. Sì, con te è lo stesso. Quest'idea è nata grazie all'amicizia che abbiamo con Stefano Spadoni, il quale ci accompagnerà come direttore artistico in questa bellissima Kermess e se non avessi trovato, incontrato Stefano non avrei proprio mai pensato di poter creare un festival a Montegrotto. Montegrotto ha una sua identità internazionale, le sue origini, vocazione, eccetera e questo insieme di usi, costumi, conoscenza di varie regioni di tutta Europa, adesso che poi diciamo siamo tutti europei, perché non fare allora un festival tutti insieme quasi. è una nostra aspirazione poterlo seguire anche personalmente per avere poi questa possibilità di intervenire con quello che può essere la cittadinanza, la classe politica e le varie associazioni. Tutti insieme andremo incontro a questo bellissimo progetto per potenziare anche il turismo a Montegrotto. Fare del turismo al giorno d'oggi vuol dire anche portare della cultura. Sì, è vero, non basta più solo l'offerta, diciamo, enogastronomica o culturale. Sì, certo. Ecco, e anche il cittadino stesso desidera queste cose, dunque la partecipazione di giovani, di anziani e anche di bambini, perché no? Perché anche per loro diventa una scuola. Tutto questo, quadruvato da un grande maestro come Stefano, cosa vogliamo di più a Montegrotto? No, infatti, per chi non lo sapesse, lo diciamo magari per gli amici che ci seguono, Stefano Spadoni, insomma, è un nome importante nel mondo del cinema, Stefano magari è una persona umile, però voglio ricordare che, come sei stato definito anche da qualche giornalista, sei un talentuoso direttore di produzione legato al Veneto, comunque anche se sei di Roma, vero Stefano? Io sono di Roma. Però hai avuto molte sinergie col territorio. Assolutamente sì, mi sono trovato per vicende professionali a lavorare spesso e volentieri in Veneto, un film è stato addirittura girato integralmente quasi in tutte le province, perché è Piccoli Maestri di Daniele Lucchetti, esatto. E abbiamo girato a Belluno, abbiamo girato a Vittorio Veneto, ad Asiago, a Padova. Ricordo le emozioni di tanti ragazzi che volevano fare le comparse. Io mi ricordo soprattutto gli incubi che avevo quando dovevo far arrivare un car armato Leopard in Piazza delle Erbe, quello è stato un pochino un problema, l'urbanistica delle città medievali. Non solo quello, ma anche abbiamo fatto le prove sismologiche per vedere se il salone reggeva. È vero, responsabilità enorme, un direttore di produzione dopo è responsabile di questo e di altro. Penalmente, civilmente e moralmente soprattutto, che è molto più importante. È un mestiere che magari non molti conoscono, non si sa bene, tutti retroscena di questa professione del direttore di produzione. Vediamo di svelarne qualcuno in questa intervista. Una volta il mio maestro, quello che mi ha insegnato più o meno questo mestiere, tanti anni fa, diede una definizione che secondo me è perfetta, che noi siamo, il ruolo è il regista delle retrovie, che è esattamente colui il quale nessuno conosce, ma è la persona al quale tutti si rivolgono nel momento in cui c'è un problema. Mi verrebbe da pensare un po' al burattinaio magico, che muove i fili, qualcosa c'è. Questa è una parte un pochino perversa, se vogliamo. Vabbè, ho fatto sto pensiero, lo dico alla Romana, ho fatto sto pensiero, Stefano. Assolutamente, ma è assolutamente, più o meno è assolutamente questo. Noi siamo le persone che hanno o dovrebbero avere tutte le risposte pronte. Tutti sanno che vengono da noi e devono, pretendono di avere una risposta al problema immediato che andava risolto adesso, due minuti fa, in 30 secondi. Così non sembra un mestiere invidiabile, però immagino che le gratificazioni, la passione e la base siano fortissime. Dipende, la scarica di adrenalina che ho io sarà difficile che qualcun altro lo possa Allora l'adrenalina, anche io la penso così, è impagabile. E come direbbero, e come diceva sempre anche mio padre, perché io vengo da una scuola, di stranamente una scuola d'arte, perché mio nonno faceva lo scenografo e mio padre faceva lo scenografo. Io non sono capace di disegnare, ho la testa fatta in una maniera diversa. Lui diceva sempre se i produttori sapessero quanto mi diverto a fare questo lavoro, mi pagherebbero la metà e io lo farei lo stesso. Io non lo dico perché io sto ancora lavorando, lui già era in pensione quando diceva questa cosa. Più comodo dirlo dopo, quando sei meno compromesso. Adesso gli impegni ci sono, le responsabilità anche, però quella scossa, quella scarica che hai descritto ora, sono veramente alla base, ripagano di tanti sacrifici e di responsabilità. Hai citato prima i piccoli maestri di Daniele Lucchetti, interamente girato, quasi interamente in Veneto, ma non solo Daniele Lucchetti, eccolo qui, vediamo alcune scene e ci parliamo sopra, giusto per respirare un po' le suggestioni del set cinematografico. Beh abbiamo avuto un'esperienza splendida perché il 70% dei ragazzi era assolutamente esordiente, non erano attori professionisti, gli unici attori professionisti erano Stefano Accorsi, se lo volevamo chiamare, era il primo film di Stefano, per cui lui aveva fatto soltanto la famosa pubblicità, due di Smellie che One, e soprattutto c'era Marco Paolini, un agroiale locale, un mio amico, sono rimasto in contatto con lui, un grandissimo attore, ma tantissime, tutta la banda dei piccoli maestri, al 70% erano attori veneti, ragazzi veneti esordienti. Ma sì, me li ricordo, ho amici, ho ancora anche qualche nome, me li ricordo bene, che hanno fatto di tutto, insomma per essere comparse, per apparire, alcuni ce l'hanno fatta, erano felicissimi, sono emozioni appunto dicevamo prima impagabili. E mi ricordo che esisteva una serie di problemi per andare a girare in Malga, perché tutte queste riprese che vediamo adesso sono girate esattamente nei luoghi veri descritti da Meneghello nei suoi libri, e siamo andati a cercare esattamente gli stessi posti e Daniele mi chiedeva sempre ma ci riusciamo a venire a girare qua? Ci riusciamo a venire a girare qua? E tu dovevi avere la risposta? E io dicevo ci proviamo, ma il gruppo elettrogeno riesce ad arrivare qui e al limite lo carico con un elicottero e ce lo porto con un elicottero. Problem solving allo stato puro. Don't give me problem, give me solution. Questo è sempre il nostro. Esatto, è musica per le orecchie di tutti, si vogliono appunto soluzioni e risoluzioni di ogni problema. Ecco, vedo dei volti. Questo non è Stefano Scandaletti. Dovrebbe essere Scandaletti. Dovrebbe essere Scandaletti, anche lui. Esatto, attore padovano che poi ha fatto anche altri film. Quindi è un film che ha lanciato anche dei bei nomi, vabbè, oggi accorsi. Assolutamente sì. Assolutamente uno dei più importanti attori italiani. Poi Paolini, insomma, un grande nome. Più una rosa, insomma, di giovani talenti. Assolutamente. Bene, quindi questa esperienza sempre nel nostro territorio, Stefano, ma anche nomi importanti come Lina Wirtmuller. Lina Wirtmuller abbiamo fatto uno strano documentario, quello che in gergo viene chiamato una docu-fiction. Che è Vivaldi. Che è Vivaldi. Girato tutto a Venezia, con una serie di problemi fantastici, perché Lina è una persona adorabile, ma è assolutamente una con cui non si riesce a fare un programma, perché lei vede una cosa e si cambia programma tutto. Per cui bisogna avere un'organizzazione appresso, tale che ti potesse consentire di poter cambiare Le incognite impazzite. Girare a Venezia, io l'ho sempre detto, girare a Venezia è meraviglioso, ma il piano di lavorazione lo decidono le maree, non le decidi tu. Se tu vuoi andare in quel posto ci devi andare di mattina. È la laguna. È la laguna. Vallo a spiegare a un personaggio che non riesce a capire una cosa del genere. Ma perché non posso andare lì? Non ci puoi andare perché non ci passano le barche. Me la immagino, una che vuole dominare anche le maree, il mare, di tutto di più. E Lettra, sei appassionata di cinema da sempre? Cioè hai coltivato questo sogno di portare a Montegrotto una rassegna così? Sì, sì, una rassegna. Vendo casa a Lido, eccetera, di Venezia, quindi mi sono vista tutte le rassegne veneziane e non ti nascondo proprio a proposito di adrenalina, alla fine ben caricata ritornavo al mio lavoro. A Montegrotto? A Montegrotto. Cioè tu fai Lido-Montegrotto? Sì, ogni tanto quando succede questa mostra, dopo per il resto in questi ultimi tempi non l'avevo più fatto purtroppo perché ero molto impegnata. Cioè risiedi a Montegrotto? Sì, io risiedi a Montegrotto, sì. Ecco che allora queste manifestazioni viste sin da piccola in un luogo, in questo contesto, è sempre stato un sogno per me poter dire, portiamolo a Montegrotto, che c'è una cornice meravigliosa con i nostri colli ugani, contesti veramente... Sì, anche un set cinematografico naturale, anche a Montegrotto. Sì, potrebbe essere. E poi l'ospitalità per gli ospiti stessi, insomma, ecco. Sicuramente siete agevolati se dovesse esserci la ricezione anche lì e l'ospitalità di attori, registi, filmmaker. Con l'attesa di qualche piccolo break in Beauty Farm, perché non... Che non guasta mai, vero, perché è anche un lavoro adrenalinico, però c'è anche un po' di stress, quindi qualche bel massaggino, qualche piscina, vero Stefano? Io mi ricordo che in Marocco, io ho girato spessissimo in Marocco, è quasi la mia seconda casa, perché per questione... Sì, da che mi riprometto di vedere presto, perché non l'ho mai vista. Assolutamente, vero, ho un bisnonno che era andato in Marocco, quindi... Ho una grossa conoscenza del territorio, per cui in genere tutto il cinema anglosassone, che deve girare in quei territori, si fa business insieme, praticamente. Io mi ricordo che lavorando sei giorni su sei, sempre per quella famosa diceria, che chi fa spettacolo e cinema fa finta di lavorare, praticamente. Noi lavoriamo sei giorni su sei, dodici ore al giorno di set, più trasferimenti andare, trasferimenti a tornare e preparazione dei giorni successivi. Più che di notte pensi comunque a tutto quello che hai fatto di giorno, perché non è un lavoro, è una passione. È una passione e al sesto giorno cadevamo sul letto, io mi ricordo che io mi facevo due ore di macchina per andare a Marrakesh, da Guarzazad, per andare a farla a mamma, perché quello mi ricaricava per la settimana dopo, praticamente. Ed era l'unico modo in cui si poteva fare... Benvenga a Montegrotto Terme, da questo punto di vista. Non c'erano assolutamente altre tipologie di distrazioni, non lo so, fidanzate o qualsiasi altra cosa, mi devo rilassare, devo andare, devo vedere... Tutto scivolava, ovviamente, in secondo piano. Allora, torniamo a questa rassegna, schermi d'Europa, cinema e autori raccontano le regioni. L'intento appunto qual è? Lo chiedo a tutti e due. Che autori, registi, sceneggiatori riescano a raccontare, quindi a trasferire anche emozioni in realtà territoriale agli spettatori sulle regioni d'Europa? L'intento è quello di riuscire, e l'ambizione soprattutto, è quella di riuscire a raccontare noi stessi attraverso gli altri occhi di come altri autori, altri filmmaker, altri registi, autori, scrittori raccontano il loro di territorio. Ormai, se noi calcoliamo l'Europa come una grande macro-regione, calcoliamo le regioni francesi, calcoliamo le regioni tedesche, i land, le contee, le regioni spagnole, le regioni italiane, stiamo parlando tra 250 e 300 micro-copoli, microcosmi, che hanno le loro tradizioni, le loro situazioni e ve li seguo. Quindi potenzialmente centinaia di pellicole o lungometraggi, film, cortometraggi. Potenzialmente centinaia di pellicole, potenzialmente tanti cortometraggi, potenzialmente mediometraggi. Stiamo ragionando se aprire anche alle nuove tecnologie, perché ormai noi abbiamo visto, purtroppo con la tragedia del Giappone, abbiamo visto che sono già online in questo momento documentari, mini documentari, fatti con i telefonini addirittura, montati da casa con il computer e messi poi in rete. Potrebbero essere inseriti in rassegna. Potrebbe essere un filone di una rassegna, potrebbe essere assolutamente proiettato, in maniera tale da poter raccontare le diversità e le cose che uniscono nella stessa maniera. Citiamo un nome per tutti, Ken Loach, un inglese, che ha cominciato a raccontare le piccole realtà irlandesi e le piccole realtà inglesi, di piccoli quartieri, di bloc, di due o tre palazzi, è diventato un autore di fama internazionale e mondiale partendo da quello. L'ambizione è quella, poi vediamo. Altrettanto, vero Elettra, anche tu, in che veste, in che ruolo, insomma, vedi anche te stessa all'interno di questa rassegna? Sei un po' una delle promotrici, l'ideatrice, la promotrice per definizione. Direi che presenziando e partecipando a tutto questo, sono questa unione fra l'artista e la nostra realtà. Certo, fai la tradugnione proprio. La tradugnione fra le due cose, sì. Ma prevedi anche un tuo ruolo? Ci sarà una giuria? Certo. Ci saranno assolutamente giurie che cerchiamo di far sì che siano il più, ovviamente, qualificate possibili, il più legate al territorio possibile. Non vi sembri strano che sia un romano che dice queste cose, ma siamo esattamente, tranquillamente preparati al fatto che una manifestazione veneta debba avere una giuria veneta. Poi tu, scusami Stefano, sei laureato in antropologia culturale. Assolutamente. Chi più di te non può apprezzare l'identità culturale, territoriale, insomma, delle regioni, dei popoli in generale. Voglio ricordare, sempre parlando di Stefano, perché non capita tutti i giorni poi di avere un non veneto, intervisto sempre persone dal nord-est, però in questo caso ovviamente un romano così legato al territorio non me lo sono fatto scappare, anche in funzione insomma di questo evento di Montegrotto Terme. Voglio ricordare anche la tua collaborazione con Ridley Scott. Sì. Sei stato direttore di produzione del film Hannibal. Sì, la parte italiana è quella girata tutta a Firenze. Ridley Scott è uno dei più grandi, credo, a mio avviso, perché comunque ho visto Il gladiatore, credo, cento volte, anche qualcosa del genere, oltre a tanti altri film. Mentre loro stavano facendo Il gladiatore, la parte del Colosseo, che è stata ricostruita a Malta per questioni di opportunità geopolitica, noi stavamo facendo U571, che è un film di sommergibili tedeschi e americani, e stavamo a Malta nello stesso identico periodo. E la cosa meravigliosa fu che arrivò a Dino De Laurentiis, un altro grande produttore italiano, il quale mi onoro di aver lavorato sei o sette volte, che ha insegnato più o meno tutto a me, e che arrivò la notizia che tutto era andato bene per fare Hannibal, e mi ricordo che fece firmare a Ridley Scott il contratto per fare Hannibal in un bar su un tovaglionino di carta. E il giorno dopo è andato con quel fazzolettino di carta da un notaio, gliel'ho trovato io a Firenze, a Malta, un notaio, ovviamente dalla spilla della sarta fino al notaio, è arrivato, siamo andati dal notaio a farlo registrare come un tratto a tutti gli effetti. Incredibile, questi sono proprio aneddoti da film, questa è la grande Julian Moore, poi il mitico Anthony Hopkins, anche io sono un appassionata di cinema, sai Stefano, volevo fare la regista, poi ho fatto filosofia, però insomma mi fa molto piacere dare spazio anche in questo salottino a notizie come quella dell'evento di Montegrotto Terme, che insomma non ha ancora dei tempi vero, definiti, definitivi, ci state lavorando. Questa è una notizia che stiamo dando, il sasso è lanciato, lo stagno si sta cominciando a muovere, stiamo cominciando a vedere le increspature come rientrano, mettiamo, usando la tua metafora, e vediamo un attimo come è possibile organizzarci per dare a voi, tramite voi e tramite tutti gli organi di stampa che ci concederanno la loro attenzione, dare le giuste notizie, le giuste informazioni. È chiaro che una cosa va lanciata e bisogna vedere i feedback come tornano indietro. Nel momento in cui abbiamo i primi feedback si comincia, si parte. Subito siete attivissimi, vero? Ecco per ora i prossimi step, le prossime azioni proprio operative, chiedo anche ad Elettra, proprio come referente territoriale di Montegrotto. In questo momento noi abbiamo le elezioni domenica e ci auguriamo proprio, siccome anche io faccio parte di una lista civica assieme alla Lega, ci auguriamo di vincere, questo è estremamente importante perché nel nostro gruppo ci sono tutti i mestieri, tutti i lavori, anche tutte le professioni. E siamo un gruppo che vogliamo veramente aiutare molto Montegrotto, tra l'altro composto di tanti giovani professionisti. Questa cosa qui sarà anche una sfida nel vedere se noi riusciamo. Non dovesse andare il nostro gruppo, comunque chi succederà a questa giunta prenderà contatti e avremo contatti estremamente importanti perché l'occasione è troppo incisiva per Montegrotto. Vuol dire portare un avvenimento che aiuterà indubbiamente alla lunga il nostro turismo. Decisamente si tratta comunque di un grande evento, di una grande iniziativa che serve anche a scuotere un po' il territorio, non solo Venezia. Venezia si può soltanto onorare e portarla in palmo di mano come una gloria italiana da questo punto di vista. Certo, grande polo cinematografico, riferimento, però far sentire la propria voce anche da territori che non sono di estremi. Assolutamente, ma facciamo gli esempi di un festival meraviglioso nato da un'idea vincente in un piccolissimo centro che è il Giffoni. Il film festival di Giffoni sul cinema per ragazzi, per bambini, con l'idea geniale di ambientare le giurie esattamente dai bambini che giudicano i film per bambini, è un'idea semplice, piccola, geniale, che ha portato Giffoni ad essere un polo. L'ultima edizione ha avuto Spielberg come ospite d'onore e coordinatore che è stato felicissimo di venire, di fare, di partecipare, eccetera, eccetera. Quindi insomma, intanto benvengano le iniziative, le provocazioni, le istituzioni a persone a detti ai lavori. Vi faccio un grande in bocca al lupo, davvero il tema è interessantissimo. Allora vi chiedo di tenermi aggiornata perché è tutto ancora in fase embrionale, ma vedo molta vivacità su questo fronte. Allora, prima di salutarvi, dico ai nostri amici che ci vediamo delle immagini di un evento che si terrà domenica prossima, è la nostra news di chiusura, noi chiudiamo sempre con una news di chiusura, il pranzo dell'incontro con Maria, domenica 15 maggio, piove di sacco. Ci vediamo delle immagini dell'anno scorso e intanto aspetto l'ultima ospite per chiudere la puntata di oggi. Salutiamo allora e ringraziamo Stefano Spadoni, direttore artistico di Schermi d'Europa ed Elettra Toson Braggion del Rerilax Hotel Miramonti di Montegrotto Terme. Davvero, tendo notizie da parte vostra e un grande bocca al lupo. Grazie a te Damien. Amici, ci vediamo alle immagini del pranzo dell'incontro con Maria dell'anno scorso e aspettiamo qui l'ospite di chiusura, Erika Bergantin. Grazie a te Damien. Grazie a te Damien. Grazie a te Damien. Grazie a te Damien. I feel like I could die I'm falling off I don't know It's another perfect day Another perfect day So I might try To leave it all behind I know tomorrow's not so bright Now I'll say goodbye Cause nothing good can last You're wearing thin, you're nowhere fast And today I don't know how To keep it all inside But I guess I'll let it slide Eccoci amici, siamo qui con l'ultima ospite della puntata di oggi Ve l'ho presentata prima, Erika Bergantin Ciao Erika, benvenuta Ciao, grazie Figurati, tu sei qui per parlarci di questo pranzo dell'incontro con Maria Che è un evento che organizzate domenica prossima, vero? Il 15 maggio ha piove di sacco E non è certo la prima volta, vero? È l'ottava festa della Saccisica Sì esatto, è l'ottava festa della Saccisica È un pranzo che segue appunto la festa del voto Che viene fatta il 6 maggio E l'idea è di continuare a stare insieme a far festa Proprio a seguito della festa del voto Ecco, vediamo se riesco a mostrare anche la locandina vostra Eccola qui Ecco un po' Ecco, sporichia Eccola qua Allora dimmi, un evento che davvero vede la partecipazione di migliaia di persone L'anno scorso abbiamo visto un po' di immagini C'erano circa 2000 ospiti Sì, 2000 persone Tra partecipanti e volontari che le aiutano per la realizzazione di questo pranzo C'erano quasi appunto 2000 persone Ecco, vedo qui un incontro di amicizia, di festa, di condivisione Alle ore 11 c'è la Santa Messa all'aperto presso il piazzale del santuario Esattamente Allo 12.30 il pranzo con contributo di Euro 12 Quindi veramente un piccolo contributo Penso si possa mangiare in abbondanza Sì, infatti l'idea anche particolare di quest'anno E' che il menù è variato E il primo piatto sarà il pasticcio E non la pasta come gli anni scorsi Che fame E in particolare sarà molto particolare Perché il pasticcio sarà realizzato dalle nostre cucine Con le volontarie appunto che vengono da tutte le parrocchie Che aiutano per la realizzazione di questo pranzo Che bravi Quindi sarà proprio una novità Una cosa anche buona sicuramente di casa Sicuramente, tipo l'anno scorso cosa avete preparato? Sempre cucina alla Veneta? Sì, beh, diciamo che tendiamo sempre a fare dei piatti abbastanza nostrani In modo che tutte le persone che partecipano possano mangiare cose che piacciono Ecco, un incontro per salutare davvero la Maria Regina della Pace Vedo qui Che ci unisca con tutti i popoli ad un'unica mensa Quindi è un messaggio davvero di pace Un omaggio insomma alla Madonna Sì, ma soprattutto possiamo dire che è una tematica importante Anche per l'anno che stiamo vivendo Sentiamo molto parlare di guerre in questi giorni E lo strano caso vogliamo anche poter dire di quest'anno È che la tematica è stata scelta prima che incominciassero le problematiche Che sentiamo tutti oggi nel Nord Africa E quindi, vuoi per coincidenza, vuoi per una fatalità Chissà, il destino Quest'anno la tematica è proprio la pace nel mondo E verrà simboleggiata proprio mettendo tutti i colori diversi lungo tutte le tavole E ci sarà un grande mappamondo che accompagnerà prima l'eucarestia E poi tutta la giornata insomma di festa E quindi davvero una grande giornata di festa Così in nome della Madonna, Maria Regina della Pace Vedo che il luogo è Santuario Madonna delle Grazie È vero di piove di sacco Cosa c'è intorno a una piazza? C'è spazio per allestire tutti i tavoli? Beh, a dir la verità è proprio un pranzo lungo il viale Perché per arrivare al Santuario della Madonna delle Grazie C'è un lungo viale alberato Quindi una bella giornata di sole che aspettiamo Ecco, incrociamo le dita Esatto, che ci sia questo sole È tanto agognato e sospirato Sì, esatto Il meteo insomma da un giorno bene, un giorno male Confidiamo nel sole Speriamo tanto nel sole per poter passare questa festa insieme E insomma c'è questo lungo viale E lungo questo viale saranno allestite delle tavole Che occuperanno tutto lo spazio percorribile Ecco, come funziona? Cioè si arriva direttamente lì chi vuole mangiare O bisogna preordinare? Si può comprare il biglietto prima E poi è bello perché si può già decidere il posto dove ci si può sedere Prima di incominciare la messa Bene, quindi decidere già di stare sedute vicino ad amici o parenti Esattamente Si attacca al proprio biglietto perché è adesivo Bene, siete organizzatissime Il proprio posto e ci si può sedere tranquillamente alla Santa Messa E poi sedersi a tavola È un continuum Godere la compagnia, esatto Anche mangiando cose buone Sempre in questo spirito di amicizia, festa e condivisione Vedo che c'è anche una lotteria Esattamente All'ottava festa della Saccisica Quindi anche un momento ludico Esattamente Ma non sarà ludico soltanto per gli adulti Anche per i bambini Infatti sono previsti gonfiabili Zucchero filato Animazioni Animazione Vedo qui davvero Poi ci sarà alle ore 17 anche un coro gospel che verrà a cantare Però Quindi non soltanto dalla parte culinaria ma anche dalla parte musicale Una festa per tutti Esattamente Una festa per tutti Esattamente Una festa trasversale per grandi e piccini Allora ricordiamo Erika perché sono in chiusura e devo purtroppo salutarti Domenica 15 maggio 2011 Ottava festa della Saccisica Maria Regina della Pace ci unisca con tutti i popoli ad un'unica mensa Quindi davvero un grande momento conviviale di spiritualità Ma anche insomma all'insegna della buona cucina Della buona tavola e dell'amicizia Esattamente Allora Erika ti ringrazio Grazie a te Per aver condiviso con noi questa notizia Allora invitiamo tutti gli amici che ci seguono da casa Che hanno voglia domenica di farsi un giro a Piove di Sacco Ad andare a questa grande festa Certo Della Madonna Allora ti ringrazio amici Io ringrazio voi Vi auguro un fantastico fine settimana In particolare voglio salutare due amici a me carissimi Linda e Orfeo Che mi seguono sempre con affetto E anche la cara Bruna Voglio bene a tutti voi Ma anche a tanti altri che non riesco sempre a nominare Grazie davvero di seguirmi sempre con affetto Vi voglio bene Ci vediamo lunedì prossimo Sempre dalle 13 alle 14 Nel vostro salottino di chiacchiere e caffè Grazie a tutti Grazie a tutti